Prendiamo il collegamento tra Borussia e Celtic, partita vivissima, piena di bull, grandi giocate. Paolo Sfano, 0-0 però, muovi. Lungo fa solo la palla. Cusano. Cusano, Manolo. Dalantano. Cusano, palla per la piccola di prima, per Maseglia, palla per Esposito. Il sonno è preciso. Frattini, Maseglia, un buon anticipo, palla per la piccola di prima, per Esposito. Palla sul laterale della rete. Frattini. Cusano, un buon anticipo. Barbato. Maseglia. Maseglia, Barbato. Maseglia, ancora. Troppo leziosi fosse il Celtic, ora. Approfitta del grande numero di gol di vantaggio. Maseglia. Grande gesto tecnico, rovesciata sulla tavessa. Maseglia. Spazio, indono, 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 indono. La gloria, anche i miei del quartiere lungo. Cusano. Prende pallare il frattini. Cusano ancora. Barbato davanti alla porta. Pallo di Arrigò. Maseglia il palo. Nell'e uno. Ottima palla di Frattini Seglia Per Cusano Dietri già Cusano Persiglia Cammino dopo questa Cusano 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 Frattini Cusano Cusano Ligone per il Borussia Sembra se ne voglia incaricare Galbini Parecchio a tre Parecchio a tre Galbini contro Luongo Qu'è sfida Cusano Ligone Ligone RattJA Al centro La Femirale Ligone 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 Il Borussia è completamente demoralizzato, Marsiglia ancora che passeggia nel campo. Ancora frattino, vittima da rendersi, ancora lungo, che si oppone. Cambio nel Celtic fura ricò. Il Borussia è disattento. Troppo aggressivo Marsiglia, che commette fallo, anche un giallo forse per poteste. Penso un'altra decina di minuti, sì. Una decina. Rattini, alla base di questo faccio di punizione sulla barriera. Palla per Marino. Marino che ci vada lontano! Ancora lungo. Galbini, ancora vicino. Galbini falla in trataccia. Fallo netto, non visto dall'arbitro. Galbini, esposito. Cusano subito per barbato. Ancora per Marsiglia. Di una palla al centro, non c'è il suo palo. Guarda questa fallisce sotto porta. Guarda che c'è il suo palo. Espevo, cos'è il suo palo. Troppo lezioso forse. Galbini, lungo verso la palla. Marsiglia. Mazzano. Cusano. Luciano poteva fare la sorpresa da lontano Frattini moralizzare il Borussia Frattini Messi davanti per esposto mette a terra un buon pallone Luciano col sinistro ancora Marino per la seconda volta Frattini recupera però è Galleghebini Cusano Di Tacco Massimo Doppio 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 Ancora esposto il Barbato Marino Per Gallini davanti al portiere Doppio 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 Doppio